L'Expo è la presentazione più importante a livello internazionale che parla del Made in Italy con TVT. Oggi vogliamo presentare due nuovissimi prodotti. La versione Laser S, dove abbiamo un sistema che permette di arrivare a delle velocità di taglio dei 90 metri al secondo e presentiamo il prodotto top di gamma. Sull'utensile HP vediamo la costruzione in un unico blocco. Questo permette di avere più rigidità e portarci a elevati numeri di rotazione, a giri molto più sostenuti per incrementare qualità e finitura sul pezzo lavorato. Sul sistema Laser HP abbiamo introdotto il sistema foil, dove in pratica, grazie a un piccolo particolare cilindrico, includiamo nell'utensile tutte quelle lavorazioni fatte con i classici rasanti, settori dentati o raggiatori, permettendo una manutenzione semplificata grazie alla possibilità di accedere frontalmente e non più dalla parte superiore dell'utensile. Tra tutti i seramenti che presentiamo oggi, qui troviamo Esperia Innova. Si tratta di un seramento legno-alluminio, con altissime prestazioni a livello termico e ottime prestazioni di tenuta all'acqua. Il vantaggio che abbiamo in questo sistema è la rapidità di assemblaggio e la possibilità di eseguire completamente in falegnameria tutte quelle che sono le operazioni di taglio e assemblaggio dei telaietti. Presentiamo inoltre il sistema portoncino Esperia V9. Qui abbiamo coniugato altissime prestazioni di tenuta con una rivisitazione di un portoncino dove il legno veramente esprime il meglio di sé. L'utilizzo di una soglia col profilo ribassato, grazie anche all'impiego di un meccanismo ghigliottina, ci dà la possibilità di avere un'altissima prestazione di tenuta all'acqua. Unito al fatto di utilizzare delle battute dedicate e delle guarnizioni studiate apposta per il portoncino, riusciamo ad avere la possibilità di utilizzare ferramenta che permette di arrivare a un grado di antiefrazione che è sempre più richiesto anche per la porta in legno. A Xilexpo abbiamo presentato la gamma completa dei seramenti Esperia, un sistema per essere vicino ai seramentisti tutti i giorni e dare loro un prodotto di altissima qualità, certificabile, grazie anche alla possibilità del cascading TVT. A Xilexpo abbiamo presentato la gamma completa dei seramenti Esperia, grazie a tutti i giorni e 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 a tutti i giorni. Grazie a tutti.